Un quarantene di eboli è stato denunciato dai carabinieri di Serino insieme ad un 35enne di Avellino perché sorpreso a tagliare alcune piante di faggio nei pressi di un bosco di proprietà comunale. Gli uomini dell'arma sono intervenuti poiché il taglio stava avvenendo in un'area ricadente nel parco regionale dei Monti Picentini e in una zona di protezione speciale sottoposta a vincolo idrogeologico. Per entrambi è scattata una denuncia alla procura di Avellino con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento e prelievo di esemplari di specie vegetali selvatiche protette. La legna e le due motoseghe utilizzate per il taglio sono state invece sottoposte a sequestro.